Musica Ultima edizione di Stati News in studio, Riccardo Gatto giornata di riposo per il Palermo nel primo giorno della settimana che precede l'incontro di campionato contro il Leggeno la ripresa degli allenamenti per la squadra di Beppe Iechini è fissata per domani Giuseppe Iechini, allenatore del Palermo, dopo questo primo scorcio di stagione promuove i suoi per le prestazioni espresse fino ad ora do un bel 7 per mentalità e spirito, ha affermato Iechini e per gioco soprattutto, abbiamo sbagliato ad Empoli ma contro la Juventus siamo stati timidi se in Serie A si abbassa il livello di intensità non si va da nessuna parte, adesso c'è più equilibrio In occasione del 21esimo compleanno di Paolo Di Bala, il padrone del Palermo Maurizio Zamparini ha commentato anche il tema legato al rinnovo del contratto del calciatore argentino lo facciamo, Paolo è un ragazzo splendido, ha dichiarato Zamparini sa che deve restare ancora da noi qui un anno e mezzo per mostrare al mondo quanto vale Trasferta trapanese per il responsabile dell'area tecnica del Palermo, Dario Bacin il dirigente rosa nera infatti ha assistito dal vivo al derby tra Trapani e Catania mostrandosi soddisfatto per il gioco offerto dalle due formazioni per la cronaca, la gara si è conclusa sulle punteggi di 2 a 2 per tutte le altre notizie stadionews.it